Ciao a tutti ragazzi sono 6 e benvenuti in questo nuovo video Siamo sui minigame, siamo su server Hive MC E oggi andiamo a fare un paio di cose Allora soprattutto avete chiesto di fare un altro hide in sick Quindi lo faremo tranquillamente Anzi boom buttiamo Oddio sono buttato dall'altra parte Facciamoci un bellissimo hide in sick Che l'ultima volta tipo siamo riusciti a vincere in qualche modo Buongiorno abbiamo perso Però dettagli Qui c'è una lobby libera, c'è una lobby libera quasi pronta Oh ci sono entrato Sono un grande ragazzi sono l'ultimo player GG abbiamo 14 secondi prima di entrare Quindi OP Allora sì sono di sera quindi ho una luce faccia che mi fa ombra dietro Però ragazzi è l'unico modo che ho per registrare Mi dispiace Sono non vedete una mazza Quindi Sapete Meglio così Ok allora Soltamente siamo un blocco Dobbiamo Ok Bloc info in the bar Oh sono un book selfson Ok perfetto Posso inserirmi in teoria Qui sopra Merda non posso andarci Devo andare in un posto interessante Abbiamo 7 secondi per Metterci da qualche parte Qua 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 ragazzi Bam Ok Facciamo un attimo che finisca nei secondi Spera vediamo sopra Vediamo sopra Ce lo faremo Ce lo faremo Ok Sono un blocco Perfetto Allora Già stato ucciso Noi la madonna Ma fa schifo Allora Soltamente dobbiamo resistere Per 285 secondi Mentre siamo Che brutta cosa Siamo in una testa di book self Vabbè Ok Presto diciamo una spada Riceveremo anche E È una cosa abbastanza pericolosa Perché Oh è stato ucciso un sicaro Ottimo Eh Soltamente ci sono due Due cose che potrete fare Quando giocate a Daystick A Daystick O rimanere fermi E sperare che nessuno vi uccida Oppure uccidere Velocemente il Seeker Il Seeker è un bel problematico Perché sostanzialmente Se uno è bravo Riesce uscire tranquillamente Velocemente il primo Quindi significa che diventano due Seeker E già lì C'è un piccolo problema di fondo Perché c'è tanta gente E poi Quindi il mio consiglio è Se vedete che il Seeker È stupido Avvisate in chat Di andare tutti contro di lui Così che Voi avete il vantaggio numerico Lui si ha Non sbagliato in avanti Però lo arate E vincete Questo è uno dei più facili Modi per vincere Ovviamente ne abbiamo un knockback 1 Che comunque fa schifo Su una spada in legno Lui era armatura in ferro Quindi capite che non gli faremo mai Tanto danno Ehm Adesso siamo qui Non abbiamo visto nessun player A un momento Che ci ha Visto Ora ecco lì Un player L'ho visto Che stava camminando Ehm In genere Molte volte lo faccio anch'io Vado tipo in giro Spacco tutto E cerco di controllare L'amico Ehm Cioè il nemico Però In teoria Non Dovrebbe funzionare Cioè Dovremmo fare così Ma non dovremmo anche Non fare così Ora non so adesso Se vengono di qui a controllare E spero di no Sinciramente Ehm So che Adelisic è un po' palloso Perché sostanzialmente Rimani fermo Oddio Ho visto una piccola amica Di cima a me Che spazzava e andava via Stanzialmente dicevo Oh Stato picchiato Mi sa Mmm Ah ecco lì Un'alberia Stanzialmente Il modo migliore È rimanere fermo Ehm Fin quando non vedi Che la situazione Sta andando a rotoli Ovvero Se vedi che Sei o l'ultimo Seeker Cioè l'ultimo Hider O Comunque Sei vicino a tantissimi Seeker O Decidi di star fermo E di rischiartela tutta Come sto facendo adesso io Vedete Oppure Vai in giro come un pazzo Cercando di non farti beccare Cosa difficile Se non sei bravo a fare il parkour Cosa che per esempio Non so fare io Per adesso Questa mamma mi piace Perché Oddio Ma C'è un tizio lì Sembra che non stanno venendo qui dentro A vederci Qualche seeker sta morendo Sicuramente Quando muore il seeker Rimane in vita Quindi quello è proprio il problema Rispetto all'Hiders Quindi È un po' problematica Non è cosa Comunque Abbiamo preso 12 Hiders E 10 Seeker Stanno uccidendo un paio di Seeker Sicuramente Molto facilmente Soprattutto Crate Shooter Che sta morendo Un sacco di volte No Hanno ucciso un po' di persone Allora abbiamo ancora Due minuti Di tempo Rimanente Per star fermi E decidere Se vogliamo morire Oppure no Allora Assolutamente Cosa farò Aspetterò Gli ultimi 10 secondi Per poter scappare Con quegli ultimi 15 Perché È la scelta migliore La mia parola da fare Ora Faremo un po' attenzione Che è abbastanza complicato Ma è cosa Però Ho paura di essere beccato Ho una spada In caso Per buttare via l'amico Proprio anche Siamo in un buco Ragazzi È difficile scappare In questo modo Insomma Non ci sia nessuno Qua vicino Non vedo Non vedo nessuno Qua vicino Un po' di Seeker Sono uccisi Abbiamo un paio Di Heiders Oddio Un altro Heiders È morto Abbiamo 90 secondi 90 secondi Pronti Siamo pronti Vogliamo vincere Questa partita A ogni costo Adesso non vedo Nessuno Qua vicino Non ci sono nomi Penso che sia Un'altra parte Lì ci sono Lì due tre Mi sto cagando Un po' sotto Ragazzi Sono a meno A quasi meno Di un minuto Sono Nella merda Siamo quattro persone All'un momento Qui non hanno controllato Sostanzialmente Non sono venuti Manco una volta A controllare Io vorrei fare Molta Un tizio Qui dentro Pillo di me la madre Pillo di me la madre Ok Aia Ma beccato A 50 secondi Ragazzi 50 secondi Ok Mi ho guardato Mi ho guardato 31 token Infatti Perché sono stati fermi Botto di tempo Ora dobbiamo Un attimo Tornare appena possibile You are seeking Please wait Ok aspettiamo Ok Ah ma è bella grande La mafia Ecco perché è un po' difficile Trovarli Ehm Sostanzialmente Ci dovrebbe essere Da qualche parte Se non sbaglio Ehm Qualcun altro Nascosto Tipo qua Ma c'è qualcuno qua dentro No Non c'è nessuno Dove saranno i nostri cari amici Lo scopriremo subito ragazzi Abbiamo 18 secondi Per trovarli Cavolo Scelgono dei posti perfetti Per mettersi Sicuramente Sono dei geni del male Invece no Invece mettono Nell'angolino Sono in sito 5 minuti Più o meno Che è un'ottima scelta A mio parere E Hanno vinto gli Heiders Ragazzi What the fuck Eh 150 punti Vincono Vedete che Vincono un sacco Era una chest E un book self Eh Una chest Una ha vinto con la chest Wow Ha vinto Che bello Ok Allora Oltre a questo Volevo fare un altro minigame Che è Eeeh Trouble in the mineville Che è un minigame Che non ho ben capito Molte volte Però Esattamente È un gioco di fiducia Devi fare attenzione A trovare i traditori Chi uccide tutti Chi non uccide nessuno Ora C'è una lobby bella libera Che Uh Stavo così iniziare Oggi sono fortunato A trovare le lobby Una figata questa cosa Infatti è stato buttato fuori Perché c'era Un premium uno staff Che merda Eeeh 22 Ok Siamo tornati Perfetto Questa lobby Oh dopo il po' Che non c'entravo in questa lobby Ok Comunque Eeeh Più o meno Avete capito un po' Le tattiche che uso io Per le hide in sick Che sono Secondo me Delle tattiche molto buone Decenti Eeeh Ho visto alcuni Che per esempio Si fanno tutti in giro Della mappa Eeeh Senza fermarsi mai Non so quanto possa Comunire quella tattica Però se siete bravi Come ho già detto A far parkour Ce la fate Sono un po' difficile In effetti Però vabbè So che hanno cambiato Il modo di correre Ragazzi Ora si corre con Control E' vera sta cosa Tipo F5 Oddio si corre con Control Davvero Da quando? Vabbè Queste strane accadono Nel mondo di Minecraft Tutto nel mondo In cui gioca Ulisse Eeeh Ok sta partendo Ok Uh Mi hanno perso un paio di cesto Mi hanno perso Oh merda Ok Dobbiamo trovare Il traditore Dobbiamo trovare Chi sarà mai Il traditore Una spada Una spada Ok Un amico Ciao No Non è lui Il traditore Ah abbiamo 30 secondi Per il finale Che inizia il gioco Dobbiamo trovare un paio di robe Facciamo molta attenzione Perché in effetti C'è gente che tipo Vi ucciderà di brutto Perché è già Stronza E non capirà mai Che siete voi Il traditore Oppure no Ora non c'è un modo Di scendere di qua Vero no No In nessun modo Si può passare di qui Eeeh In effetti Bisogna un attimo Fidarsi Bisogna fare attenzione Avere Non avere delle spade Può esservi D'aiuto Perché così La gente non crede Che siete voi Però non si sa mai Ok Già Uno è morto Ok Secondo me Questo è un traditore Ok Uh Uh Ho un traditore È un traditore Ragazzi È un traditore Aia 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 Mmm Stronzi Eeeh E ora non so cosa Come funziona Sicuramente Eeeh Devo ucciderli Oppure devo rimanere fermo Non ho niente idea Non ho mai capito Questo mini game Sicuramente Vogliamo spiegare Nei commenti Perché Non so So che Bisogna trovare Il traditore Ok Ma In che modo Boh Sicuramente Nel frattempo Facciamoci A sto punto Nell'hub Facciamo così Lo shab Ah giusto È vero Bisogna cliccare Forza lì Eeeh Non so Non ho ben capito Mai come funziona Sta cosa Io mi farei un altro Ero anche Carinissimo Un altro Ulisse E bello Come mini game Quindi Dove ne farò un altro Ne farò Magari Diciamo Trovare una lobby Bella Potente Bella figa Tipo Wow Perfetto Possiamo scegliere Per esempio Stavolta ci andiamo Di Eeeh Scout Priest Archer Andrei per Eeeh Archer Sinceramente No vogliamo Wizard Wizard Che ha delle magie Potrebbe essere Molto carino Da usare Potrebbe essere Fichissimo Oddio Potrebbe essere Oppine Infatti invece un parkour Che farò So già che cadrò Ecco infatti era shift Non era control No Dettagli Eh Te pareva Ulisse non riuscirà mai a fare un parkour Lo sono certo Ma quello vi dico Quando fate L'ident Ok A posto Uuuuh Lol Ok abbiamo un paio di cose Le seal forze Le seal speed Ok Figo Allora questo è abbastanza bello Come mappa Sicuramente per combattere Aerobrine Bisogna fare molta attenzione Bisogna fare molta attenzione Wuf wuf Ok forza e potenza Perfetto Facciamo speed anche Devo fare attenzione A trovare Aerobrine E sicuramente ucciderlo Se lo uccidiamo manualmente Potrebbe essere molto più facile Però è bello difficile Combattere Perché non lo vediamo Eh Oh lì vedo qualcosa No Non era nulla Ok In genere ok No shard è arrivata Ed è di lì Perfetto Nel centro eh O dall'altra parte No ok da sinistra Lì sulla sinistra ragazzi Vediamoci Vediamo un attimo Se c'è Oh Aerobrine Ha fatto già un paio di stragi Abbiamo 9 sopravvissuti Per il momento Bisogna avere molta attenzione Ah Oddio Ho cito un altro Aerobrine Merda Vai amico Ah sta qua Oh bombe Ragazzi quali sono delle bombe Oh Ho messo la cura Meno male Salì 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 Aerobrine Vai vieni a cagare Va a cagare Ok Aia Eccolo lì Eccolo lì Aia Aia Ok Si è riuscito a portarlo Oh Dove lo porti Dall'altra parte si porta Aia Sta qua Aia 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 Stronzo 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 Eh ma va a cagare Aerobrine di merda Riusciranno i nostri cari amici A vincere Non penso proprio Sono stati arrati di brutto Ma io voglio fare Aerobrine C'è un modo di fare Aerobrine Tipo questo gioco Non mi è mai capitato di essere Aerobrine Vediamo se abbiamo un culo Diventiamo Aerobrine Non scegliamo classi In genere è più facile Non scegliere classi E diventare Aerobrine Non ho mai Non ho mai Ho avuto la possibilità Di essere Aerobrine A me piacerebbe un sacco Sicuramente Siamo a 13 player Sì Perfetto Un attimo che fiscano Ehm Finisce il tempo Insomma E spero davvero di diventare Aerobrine Che si faccia una strage Una cosa assurda Di procedere un po' Come anche la visuale Da parte di Aerobrine Che non Nessuno ve l'aveva mostrato Comunque Non si diventa Aerobrine Così facilmente In genere c'è sempre qualcuno Penso che Se non c'è lì un kit Hai più possibilità Tipo di Non diventare Aerobrine Vediamo un po' Dovremmo essere 13 In totale Si spera Ok 2 1 Dimmi che sono Aerobrine No Non sono Aerobrine Ah che brutta cosa Ok Non fa nulla Fa nulla Vorrei andare a prendere Li shard in ogni costo Ok Ad ogni costo Perfetto Andiamo Woohoo Andiamo Oh bella questa Questa è la parte della neve Tipo Christmas Christmas Prima si giocava con più persone Quindi era più facile vincere Per quello ragazzi Sai quante volte abbiamo ucciso Aerobrine Invece adesso Che siamo in 13 Siamo un po' nella cacca Perché ero prendi back Bam sei morto Sei nella merda Boom ucciso Bel problema Bel problema davvero Ok Eh Via un po' Via un po' Opla Voglio Oh una shard Eccola lì Eccola qua ragazzi Ok Stiamo 10 sopravvissuti Porca vacca Porca vacca Ho slowness Proteggini Proteggini Bello Proteggini Ok ho preso una shard Ragazzi Mi stanno proteggendo Devo portarla qui Al punto di ritrovo Oh La prima shard è andata ragazzi Ho soltanto ancora slowness Adesso Mi ha preso una shard Adesso è rovare nemmeno potente Ok L'ultimo Ok andiamo Perfetto Ok farò poco uscire la shard Ragazzi Non preoccupatevi Sta lì Sta lì Sta lì Dice Aerobrine Dove sei? Aerobrine Non staff k O staff k Ho paura di andare da solo Sinceramente Ehm Sì ho paura di Estare nella cacca E di morire Di brutto Adesso adesso Sembra che Aerobrine Sia fk Ho sbaglio No Nuova cosa Nuova cosa da là Da là Dimmi che la prendo anch'io Di nuovo Eccola lì ragazzi L'ho vista No Non l'ho vista Sono stupito io Ok penso sia Oh l'ha presa L'ha presa L'ha presa Ok un amichetto l'ha presa Andiamo a aiutarlo Vai amico vai 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 Ti proteggo io Dall'altra parte Dall'altra parte Dall'altra parte qua Aerobrine Dall'altra parte amico Dall'altra parte Other way Aia Stupido Aerobrine di merda Mi sta lanciando le pozioni L'ha capito quello che deve andare dall'altra parte Pandeggio che mi sono un po' curato ragazzi Sta qua Sta qua Aerobrine Sta qua Sta qua Dove sta Beh è riuscito ad andare con lo tizio Ok sta andando un po' avanti Sta facendo un giro Abnorme Quando poteva andare dall'altra parte Facciamo metti indietro Vuoi tornare indietro dall'altra parte Ma fai Sia più Sia più utile Non mi scorda me Non sa nemmeno dove tornare Che stai facendo? È un idiota È rimasto anche castrato Vai vai bello vai Ti proteggo io Ti proteggiamo io E c'è mi bello C'è mi bello Opie Due sono morti ragazzi eh Io vorrei fare attenzione In effetti E dai vai Vai bello Ti proteggo io Non c'è nessuno C'è Robrine Non c'è nessuno Bam Due catturati Ok Ne rimane una terza ragazzi Perfetto Di 8 spazzotti su ti non vedo nessuno Dove sono finiti? Io ne vedo 64 Ne vedo qua All'alti forse è un'altra parte Di lì Apparentemente lo stavano picchiando Aerobrine Per esempio questo tizio ragazzi Non è un bravo Aerobrine Perché sta prendendo sotto le botte E non sta vincendo Ora c'è manco Ah eccoli lì Gli ultimi Ok sono tutti qui Sono insieme Oh è stato ucciso qualcuno Balcon Lover Chi Se stiamo insieme ragazzi È meglio Perché riusciamo a vincere prima Ora voglio prendere l'ultimo io Ma non devo uccidere io Aerobrine Comunque Uno di due Voglio farlo Quindi aspettiamo un attimo Che arriva la terza Oh guarda Ok Dov'è di qua La shard Dov'è Dov'è la shard Dov'è la shard What? Ma è riuscita la shard Sì Ha già presa No Non penso Qua dice sempre avanti Ah ok Era dall'altra parte La shard Vieni amico Vieni vieni Ok ok Anche dall'altra parte Spona Sta qui Aerobrine Sta qui Aerobrine ragazzi Oh eccolo qua Ah eccolo là Ah vieni qua Aerobrine di merda Ahia eccolo là Ha mancato la pozza Ha mancato Mancate due pozze No l'altra l'ha presa Ok A posto Vai Portala 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 Ok Ragazzi Aerobrine invisibile Dov'è? Dov'è? Sta scappando Dov'è Aerobrine? Eccolo lì Eccolo lì E' lui E' lui Aerobrine Ah l'hanno ucciso Ah vittoria Finalmente abbiamo vinto Un'Aerobrine Finalmente E' bel po' difficile Non ho detto tipo Bah E' difficile Non siamo ancora diventati Noi Aerobrine Però fa nulla Ok ragazzi Per questo minigame è tutto Ci vediamo nel prossimo Minigame In prossimo video Vi saluto E ciao ciao ragazzi Ehi tu Si dico proprio te Sì nuovo da queste parti Si? Allora mi presento Io sono Lisse E questo è il mio canale Qui potete trovare video di Minecraft Ma non solo Il canale è anche pieno Di video di gameplay Quindi Che aspetti Io non so E' verlo più da vicino Persone o animali O bambini Non sono stati sfruttati Per la realizzazione Di questo video